Prosegue l'impegno dell'amministrazione metropolitana a Falcomatà e sono consegnati i lavori della palestra Repaci di Villa San Giovanni. 140.000 euro di intervento finanziato dal credito sportivo con il progetto Sport Missione Comune, un lavoro che abbiamo portato avanti con il dirigente Mezzatesse e col funzionario Paruccio e che si inserisce all'interno di 10 interventi su tutta l'area metropolitana di oltre 2 milioni di euro. Una scommessa vinta, un impegno mantenuto che non finisce qui ma che proseguirà con la consegna degli altri lavori nelle scuole della città metropolitana di Reggio Calabria. Un ragionamento fatto anche con il Governo nazionale per snellire la procedura, riaprire i cantieri e realizzare in tempi certi interventi per le scuole, le palestre e i giovani del nostro territorio.